Un caro saluto a tutti, oggi visiteremo Vernazza in Liguria, uno dei caratteristici borghi delle Cinque Terre. Vi mostreremo le immagini del nostro viaggio a Vernazza, comune italiano di circa 700 abitanti della provincia di La Spezia in Liguria. È uno dei cinque borghi secolari che costituiscono le Cinque Terre, sulla costa Ligure nell'Italia nord-occidentale. Le abitazioni colorate circondano il piccolo porto turistico, la chiesa di Santa Margherita d'Antiochia, a un campanile sormontato da una cupola elegante. Incastonato tra le rocce, il Castello Doria è una struttura difensiva medievale con una torre cilindrica. Appena sotto il castello si trova il bastione Belforte. Liguria 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.